Ciao a tutti, secondo incontro sull'umanesimo. Questa volta affrontiamo, dopo aver visto la periodizzazione e la localizzazione del movimento, affrontiamo alcuni argomenti un po' più specifici, cioè il rapporto con i classici. Cominciamo da questo. Il rapporto con il Medioevo sotto questo aspetto è di forte discontinuità. Cioè che cosa vuol dire? Che nel Medioevo i classici erano considerati in maniera decontestualizzata, cioè si adattava, si cercava di adattare il messaggio antico all'immediato, a quello che si credeva nell'immaginario teologico, nell'immaginario culturale collettivo del 1200-2003. L'esempio classico è proprio quello di Virgilio, che pur essendo morto prima di Cristo, è considerato da Dante guida, perché in qualche modo ha parlato di questo puer che è in procinto di nascere, che porterà con sé l'età dell'oro, quindi una specie di profeta pagano, che però anticipa buona parte dei contenuti del cristianesimo. E allora Dante lo sceglie, non solo per questo evidentemente, ma anche per la portata delle sue opere, l'importanza di Bucoliche, Georgiche e Deneide, soprattutto lo sceglie come guida. Però è la guida all'interno di un mondo ultraterreno, tutto perfettamente teologicamente cristiano, però all'interno del quale troviamo come guida proprio un pagano. Quindi è il modo classico, l'esempio che ogni tanto riporta è proprio la statua di Marco Varello sul canale del Campidoglio, lì dove appunto viene conservata, al contrario di tutto quello che avviene per le altre statue bronze dell'antichità romana, viene conservata perché sembrava, erronamente, essere una statua dell'imperatore Costantino, il primo imperatore cristiano, la cui memoria deve essere conservata. Se avessero saputo, e la storia non si fa con in sé, però se avessero saputo che invece era una statua equesta di Marco Varello, forse avrebbe fatto alla fine di tutte le altre statue bronze dell'antica Roma, buona parte delle statue bronze dell'antica Roma, appunto, trasformata in cannone da guerra, in munizioni o in altro, non certamente sarebbe stato conservato. Ora, il processo invece nel 1004 è diverso rispetto a quello del Medioevo, cioè si cerca proprio di ricostruire il contesto in cui l'uomo antico si è mosso, cioè perché Cicenona, perché Virgilio hanno scritto in questo modo, a chi scrivevano, a chi si rivolgevano, a quali erano i generi letterali, cioè uno studio un po' più, che oggi diremo, scientifico dell'antichità. Abbiamo detto forte discontinuità, ma è pur vero che Petrarca ha considerato il primo umanista, cioè il primo che ha trattato, il termine è improprio, ha trattato gli antichi in questo modo, non fosse altro per la profondissima attenzione e studio che ha avuto da livello filologico dei testi antichi. E allora, dire sì che c'è una profonda discontinuità rispetto al 1003, e sì, è vero, ma è pur vero che un uomo del 1003, Petrarca nel dettaglio, anticipa molte delle dinamiche proprio del 1004, una di queste appunto è il rapporto con il classico. Un evento storico, ma direi soprattutto culturale, a cui assistiamo in questa perda è la caduta di Costantinopoli, la fine del regno dell'impero romano d'Oriente, appunto datata a 1453, da evento storico evidentemente epocale, diventa un evento culturale di portata veramente incredibile. Perché? Perché fisicamente, ancora una volta io insisto su questo, me l'avrei sentito dire in altri video, però fisicamente la cultura greca, che fino a quel momento era stata praticamente assente dall'intero panorama culturale europeo, torna in Europa. Torna, ma appunto fisicamente, perché ci sono dei letterati che giungono in Italia con il loro bagaglio culturale e anche il loro bagaglio fisico di libri, di opere antiche appartenenti alla cultura greca, che era praticamente sconosciuta alla cultura medievale. Ci ricordiamo che Dante presumibilmente non conosceva il greco, abbiamo tutti quei problemi legati alla traduzione di Aristotele greco, che avviene per mezzo di Avicenna, vero è, che sono filosofi arabi, che poi vengono tradotte appunto in latino. Ecco, tutte problematiche che evidentemente vengono bypassate dall'arrivo fisico dei personali, degli intellettuali, che invece possedevano questo bagaglio culturale greco, nell'Occidente. Quindi finalmente, possiamo dire così, banalizzando un pochettino, che l'Europa si riappropria di quello che è il suo secondo polmone, che è la letteratura e la cultura, la filosofia greca, finora più o meno, abbiamo detto, sconosciuta. Anche per questo, lo studio dei classici conosce una dinamica nuova, una dimensione nuova, che è appunto quello di una di una nuova concezione, possiamo dire, del divenire storico, per cui c'è un passato più antico dei romani, è un passato forse ancora più illustre dal punto di vista culturale e letterario, che precede i mostri sacri della letteratura latina. E questo ovviamente contribuisce alla concezione che poi sarà, avrà una accezione di carattere deleterio, in qualche modo, dell'illuminismo, che vedrà proprio nel Medioevo un'età di mezzo, un'età di passaggio, cioè fra l'antica antichità greco-romana e il 1400, due momenti di splendore, c'è un'età buia, appunto il Medioevo. Allora, questa qua è una concezione che appunto impostarono con l'idea di screditare, evidentemente, il Medioevo, gli illuministi, ma che poi troviamo su molti libri, forse nell'immaginario collettivo comune, quando pensiamo al Medioevo, pensiamo a epoca buia, all'oscurantismo cattolico, alla caccia delle streghe, all'inquisizione, con degli errori appunto anche storico-cronologici piuttosto notevoli. Il rapporto con l'arte, secondo punto, quindi dopo il rapporto con i classici, vediamo il rapporto con l'arte. Manca una teoresi dell'arte, manca l'estetica, cioè si perpetuano, in qualche modo si ripetono, quelli che sono i principi dell'antichità classica latina, quella che si conosceva di più, quella di Orazio, che appunto nell'Ars poetica imposta questo principio che vale e varrà per secoli ancora, cioè miscere utile e dolci, cioè mescolare l'utile alla bellezza, l'utile del messaggio della letteratura, della poesia, con la bellezza, la perfezione formale. Questo mescolare, ecco, rimane il principio estetico anche del 1004. Il principio di imitazione, importantissimo, gli antichi, visto che hanno raggiunto queste vette quasi insuperabili di bellezza, beh, tanto vale imitarli. Guglielmino parla di ricerca della originalità attraverso l'imitazione, emulazione degli antichi, quindi è un tentativo non soltanto di imitare, ma anche di entrare in gara con l'antichità greco-romana, greco-latina, e quindi cercare in qualche modo di superarlo. Il principio di autorità che avevamo visto così operativo nel Medioevo in qualche modo viene attenuato. L'ipsedixit, con cui si concludevano alcune delle disquisizioni medievali, ecco, questo non c'è più. Si ragiona sulle cose, si arriva ad una conclusione in base a dei principi nuovi e arrivando ovviamente a delle conclusioni altrettanto nuove. Lo vedremo con il genere letterario, il trattato. Entriamo un po' più nel dettaglio, la natura, la natura non è più considerata come una sola, esclusivamente come entità allusiva di Dio, come era nel Medioevo. Al contrario, adesso diventa un, quasi un campo di indagine, un campo di esperimento quasi, appunto si può indagare perché non è più coperta dal mistero. L'uomo ha gli strumenti scientifici e in parte tecnici per cominciare l'esplorazione, possiamo dire in qualche modo anche cominciare il dominio della natura, temi che tornano attuali anche ai tempi nostri, l'ecologia, quanto è importante. È in questo momento, è in questo periodo che nasce l'idea di poter modificare, non arriviamo ancora a questo, bisogna rispettare Bacone, il 1600, però l'idea di modificare, diventare padroni, di poter anche stravolgere, in maniera legittima, tutto quel panorama naturale, tutto quel patrimonio naturale che abbiamo trovato sulla Terra. Sono tematiche che a mio parere lasciano traccia di sé anche ai tempi nostri. La letteratura, andiamo sempre più concentrandoci verso quello che è l'oggetto vero del nostro studio, si nota un certo sperimentalismo, un desiderio di rielaborare i generi letterari codificati dal passato, proprio forza perché è avvenuto meno questo principio di autorità. L'uomo si sente un po' al centro e quindi in qualche modo autorizzato e abile a modificare tutto quello che c'era nel passato, si modifica anche i generi letterari. Nel dettaglio, il poema epico-cavalderesco, il romanzo pastorale, i suonetti borleschi, ci fermeremo, studiando Pulce, Bogliardo, Ariosto e Tasso, soprattutto sul primo, e ci renderemo conto cosa vuol dire questo sperimentalismo, cosa vuol dire le novità, che senso hanno le novità apportate al genere letterario, apportate da Pulce, in parte da Bogliardo, in parte da Ariosto e Tasso. Predominano, fra i generi letterari, che già esistevano, ovviamente, in precedenza, ma predominano adesso il dialogo, vedremo Bembo, l'epistola, l'orazione, il trattato, il trattato politico, in particolare quello di Machiavelli. Nella lirica, il modello petrarchesco, proprio seguendole, i dettami imposti, a noi questo suono un po' strano, ma così è, imposti da Pietro Bembo nel 1525, con le prose della volgarlingua, ecco, seguendo i dettami, per chi voleva scrivere poesia, il modello unico era il monolinguismo e il monostilismo del canzoniere petrarchesco. Esce fuori di scena Dante, perché il plurilinguismo e il pluristilismo comportano anche il potere, il dovere, in qualche modo, attingere a repertori lessicali di basso livello. E questo non si può permettere. Bembo diventa appunto il maestro, quasi magistere eleganziare, ma appunto del 1004, che dice cosa va fatto e cosa non va fatto. Tra parentesi, aggiungo che in prosa rimane modello, boccaccio, il boccaccio del De Camerone, e il boccaccio del De Camerone più elegante, quello della cornice e quello di alcune novelle. Il nel 1400, mi fermo su alcuni aspetti linguistici, più estrettamente linguistici, appunto prevale ancora il latino sul volgare, ma assistiamo dalla metà del Quattrocento ad un appunto diffuso uso della lingua volgare, certo di corte, quindi nobilitata, però un affiancamento del latino come lingua di cultura e questo qua è un dato che appunto si sviluppa nella seconda metà del 1400 ed è importante per l'affrancamento delle lingue nazionali dal latino pian piano che avverrà in questi secoli. La poesia, in un famoso saggio del 32, 1932, Benedetto Croce definisce la poesia del 1400, un secolo senza poesia condivisibile o meno che sia questa opinione, però effettivamente constatiamo che non c'è una grande novità come abbiamo visto a livello estetico. L'opera di Lorenzo de' Medici pur essendo appunto certamente piena di novità anche di particolari toni, temi e stile, però rimane legata all'esperienza poetica di Petrarca. Aggiungo io esistenziale, aggiungo io leggendo il canzioniere di Lorenzo de' Medici ci si rende conto che c'è un desiderio esplicito di rifarsi alla forma petrarchesca per quanto riguarda la dirica, ma anche a livello esistenziale cioè la storia d'amore che c'è dietro in qualche modo richiama quella che c'era fra Francesco Petrarca e Laura, il che ovviamente ci suona evidentemente strano e getta un'ombra sulla originalità, sulla autenticità di quest'opera di Lorenzo de' Medici ma sappiamo che autenticità e originalità non sono categorie che appartengono alla poesia prima del 1800, prima del romanticismo, sono appunto nostre tra virgolette fissazioni che abbiamo nel guardare la lirica antica. Nessun problema, Lorenzo de' Medici vuole copiare a livello di forma e in buona parte anche a livello di contenuto Petrarca. Nessuno si scandalizzava a quel tempo per questa intenzione. Leggiamo che cosa? Leggiamo l'unica opera che viene antologizzata sul nostro libro che è l'opera forse più famosa Il trionfo di Bach a Rihanna è una poesia che nasce in un contesto singolare appunto i canti le poesie di carnevale per cui i trionfi erano appunto i canti cari che venivano passavano per la strada di Firenze forse dice la leggenda un po' inventati da Lorenzo stesso per i quali ovviamente si creava tutta una scenografia particolare per cui c'erano degli uomini e delle donne che vestivano con dei vestiti particolari e salivano su questi cari come più o meno abbiamo poi l'abitudine a vedere per le nostre strade di alcune nostre città italiane via Reggio è quello più famoso ma non è l'unico il Rio de Janeiro forse il carnevale più famoso del mondo in quel punto ci sono i cari su cui si esibiscono degli uomini delle donne quant'è bella la giovinezza che si fugge tuttavia chi vuole essere dietro sia di domani non c'è certezza ecco perché Benedetto Croce parlava di secolo senza poesia perché in questo contesto ecco di domani non c'è certezza è un concetto una frase non certamente originale ecco del domani quindi il carpe diem oraziano in qualche modo ritorna in queste poesie perché appunto il domani è visto con molti punti interrogativi il domani è visto come un luogo un momento oscuro l'oggi l'unica cosa che possiamo gestire il presente ecco lì è il luogo della gioia evidentemente il tempo fugge e inganna sto sottolineando il testo che poi potrai leggere ed è molto semplice non può fare ad amore riparo se non gente rosa ingrata e torno alla tematica che anche in questo caso non è originale di Lorenzo perché perché appunto i cuori nobili ospitano naturalmente il sentimento amoroso e questo è il dolce stilnovo l'innobilimento scala del fattore eccetera non c'è nulla ancora una volta sottolineiamo di particolarmente originale addirittura il denaro a che giova via tesoro commentando la triste fine del re Mida che è uno dei personaggi presenti sul carro di carnevale che passa per le strade di Firenze dice commenta Lorenzo De Medici a che serve avere denaro se poi non ci si contenta mai ecco se è fonte di angoscia quindi quella medietas quella metriotes di cui già Orazio ci aveva parlato niente di nuovo nella lirica appunto di Lorenzo è chiaro appunto il carpe diem l'amore fisico ecco l'amore fisico è prevalente non c'è nessun tipo di innoblimento se non appunto un sentimento che si che accomuna la gente non rozza ecco la rosezza d'animo può ostacolare ma alla fin fine forse sembrerebbe quasi suggerire che neanche questo è un limite la giovinezza è un must assoluto dell'esistenza umana come anche la vecchiaia la bruttezza sono ovviamente delle realtà che vanno in qualche modo allontanate dallo sguardo esistenziale di ciascun uomo troviamo tracce di neoplatonismo ricordiamo che Marsilio Ficino è alla corte dei medici e diffonde il neoplatonismo quindi l'idea di bellezza ecco l'idea di bellezza secondo la reinterpretazione plotiniana che è diversa da quella di Platone però la ritroviamo alla corte dei medici ed è operativa dietro alla poesia di Lorenzo vero forse unico poeta del periodo è proprio Poliziano invece Angelo Poliziano che riprende però anche lui temi popolari e temi classici della classicità latina il tema della giovinezza il tema della bellezza dell'amore che sono ovviamente dei valori assoluti rispetto ovviamente alla vecchiaia al tempo che passa alla morte che incombe punto c'è proprio per questo una malinconia che forse rende un po' più classifica non se ne fanno fra i poeti però rende forse un po' più preziosa la poesia di Poliziano rispetto a quella di Lorenzo questa malinconia questa percezione dello scorrere del tempo che anticipa tante delle tematiche proprio del 1600 penso al sonetto di Shakespeare sul tempo che divora gli anni e tanta poesia tanta scultura tanta pittura del 600 con le nature morte i teschi messi sui sepolcri eccetera per cui sono tutte in realtà che Poliziano anticipa ma anche in questo caso notiamo che ovviamente la riflessione sullo scorre del tempo non è originale non è una invenzione di Poliziano si appoggia su secoli e secoli di storia della letteratura greca e latina io mi trovo ai franciulli un bel mattino i due testi che affrontiamo di Poliziano sono appunto uno su limbo uno sul materiale didattico sono forse più famosi in cui però le tematiche si ripetono più o meno per cui appunto dà voce ad una fanciulla che in una mattina di maggio si trova in un bel giardino quindi c'è l'idea della bellezza abbiamo citato prima l'idea di bellezza del neoplatonismo che ritorna appunto più o meno in maniera ricorrente in tutta in tutta la poesia vi direi che se dobbiamo uscire un brano significativo di questo testo è proprio da verso 24 quando la rosa ogni sua foglia espande quando è più bella quando è più gradita allora è buona a mettere in ghirlande prima che sua bellezza sia fuggita sicché fanciulle mentre più fiorita conia la bella rosa del giardino ecco l'immagine della rosa sarà un'immagine ricorrente nella letteratura del 1004 del 1005 nella poesia d'amore di tutti i tempi possiamo dire in qualche modo in questo caso specifico è proprio simbolo della bellezza va accolta in un momento preciso quando non è più un bocciolo e non è ancora ormai una rosa sfatta che sta perdendo i petali cioè un momento preciso che è quello della giovenezza per cui una rosa intesa come la vita della ragazza che va accolta quindi l'amore che va regalato in determinati momenti della vita e non prima e non dopo ecco la rosa intesa anche come verginità della ragazza per cui che va regalata al momento giusto alla persona giusta non prima non dopo questo attenzione perché sarà un tema ricorrente appunto in un contesto totalmente differente penso alle parole di sacripante l'elogio della rosa l'elogio della verginità che questo personaggio secondario dell'Orlando furioso di Ariosto tesse poco prima di incontrare Angelica per cui sta piangendo sta rimpiangendo Angelica ormai immaginava fosse ormai andata in sposa l'orlando e tesse l'elogio della rosa intesa evidentemente come la rosa della verginità della ragazza che appunto finché c'è rende la ragazza ancora più bella quando invece è ormai perduta in qualche modo imbruttisce porta con sé un dirlino della bellezza della ragazza lo dico così perché in contesti totalmente differenti da siamo nel poema Eragomi era un poema epico cavalleresco di Ariosto ridornerà però a questo tema che è già di Poliziano altra poesia che vediamo brevemente Benvenga Maggio Benvenga Maggio è il gonfalo un selvaggio fa riferimento ad una abitudine ad una festa del Calendimaggio abbiamo appunto il primo di maggio a Firenze in cui appunto i ragazzi offrivano dei fiori alle ragazze e le ragazze stringevano creavano delle ghirlande di fiori che mettevano sulla testa del ragazzo che avevano prescelto diciamo come partner per la festa per affrontare la giostra ecco anche in questo caso niente di nuovo Benvenga Primavera che vuole che l'uomo si innamori quindi c'è un inno alla primavera da sempre considerato pensiamo a Lucrezio l'inno a Venere da sempre considerato come stagione in cui gli amori sbocciano ecco la primavera vuole impone quasi che l'uomo si innamori proprio in quel momento specifico dell'anno dell'anno solare e voi donzelle a schiera con i vostri amanti che di rose e di fiori vi fate bello il maggio chi è giovane e bello ed è non sia punta cerva ecco l'invito di polizia è quello non fare le ritrosi non evitare di donare il proprio cuore ai ragazzi o al ragazzo in questo senso se sei giovane se sei bella non fare la preziosa diremo noi ecco ma concedi il tuo cuore al ragazzo che ritieni più opportuno però fallo ecco non aspettare in un sogno in un sogno vagheggiato in un lontano futuro l'uomo il principe azzurro fallo adesso fallo adesso che è maggio fallo adesso che sei giovane fallo adesso che sei bella addirittura verso 29 troviamo arrendetevi anche un verbo forte c'è dietro tutta la metafora della guerra dopo lo vediamo magari nel dettaglio ma c'è un verbo forte quindi concedetevi ai vostri innamorati qualcosa anche di un po' anche sconvolgente per quegli anni rendete i cuori rubati non fate guerra durante il mese di maggio cioè non opponetevi al dio amore non opponetevi all'avance di questi ragazzi concedetevi appunto è un invito alle ragazze ad aprire il proprio cuore all'amore la primavera l'abbiamo già detto è vista come stagione dell'amore per eccellenza ecco c'è un un doppio registro che è il registro dell'amore che si affianca si sovrappone a quello della guerra guerra che è giustificata in qualche modo dal fatto che l'occasione del calendimaggio era una giostra cioè un torneo cavalleresco in cui erano impegnati i ragazzi e i ragazzi mostravano in questo torneo le loro più grandi doti militari per cui evidentemente c'è dietro questo ma anche sotto questo aspetto notiamo che non è così poi originale da sempre visto l'anno scorso nel dettaglio studiando la letteratura del 1002 e 2003 spesso e volentieri amore e guerra sono due tematiche che procedono in parallelo per cui troviamo la donna Petra che ha uno scudo adamantino scudo di diamante che blocca le frecce del Dio Copito le frecce d'amore di Dante e troviamo tante altre circostanze in cui appunto la guerra è nient'altro che è una rilettura dell'esperienza amorosa che cosa c'è un edonistico invito a godere dell'amore e della giovinezza è il Carpe Diem di cui parlavamo prima riletto in quest'ottica in quest'ottica cittadina della festa del calendio maggio ma di nuovo ancora insisto una volta di nuovo non c'è niente ecco sono tutte tematiche che dalla parte Lorenzo dall'altro poliziano riprendono riprendono dalla letteratura precedente a loro che sia la letteratura latina in particolare abbiamo richiamato i nomi di Orazio e di Ovidio dall'altra possono aver ripreso e sicuramente hanno ripreso dalla letteratura del secolo immediatamente precedente del 1300 con appunto quei mostri sacri che avevano già inaugurato queste tematiche nelle loro poesie quindi confermiamo l'ipotesi e l'opinione di Benedetto Croce che il 1400 sia un secolo senza poesia aggiungendo senza poesia originale ecco perché appunto la poesia c'è la poesia esiste sono poeti di un certo livello che però non apportano grandi novità tematiche all'interno del corso della letteratura italiana alla prossima di un certo livello di un certo livello